Iniziamo quindi sempre ovviamente dallo standard a pelo corto, standard a pelo lungo, standard a pelo duro, nano a pelo corto, nano a pelo lungo, nano a pelo duro e quindi caninken a pelo corto, caninken a pelo lungo e caninken a pelo duro. Questo riguarda la categoria giovani quindi 9-18 mesi. Si preparino intanto nel pre-ring i veterani. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie ai fotografi. Grazie a tutti. Proseguiamo. Grazie.